Tre giorni dopo l'incidente aereo di San Francisco, oltre che sull'esperienza del pilota, ci si interroga su quella dell'istruttore. Il presidente della sudcoreana, Asiana Airlines, ha difeso le competenze del personale e si è scusato con i familiari delle vittime diretti da Shanghai in California. L'istruttore aveva ottenuto da un mese la licenza che gli ha permesso di formare il pilota del Boeing 777 al primo atterraggio al comando di questo velivolo. Sono costernato per questo incidente, ha detto il presidente di Asiana, mentre lo zio di una delle due adolescenti morta nello schianto lo accusa di non aver organizzato un volo diretto per gli Stati Uniti. A Yangshian i loro compagni di classe hanno acceso decine di candele in loro omaggio. I pompieri statunitensi hanno ammesso che una delle due studentesse sia potuta morire schiacciata da un mezzo di soccorso. Nell'incidente di sabato sono inoltre rimasti feriti 182 passeggeri.